Un via libera unanime dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per la Forza di Pace nel Mali. Del contingente dovranno far parte 11.200 militari e 1.440 poliziotti ed è previsto che rimpiazzino dal 1 luglio prossimo i militari africani attualmente sul posto. I caschi blu avranno il compito di stabilizzare la parte settentrionale del paese e aiutare il ritorno alla democrazia. È un mandato importante, spiega l'ambasciatore francese, un mandato per stabilizzare, ma non è un mandato di lotta al terrorismo. Non saranno loro a inseguire i terroristi nel deserto. In effetti restano sul campo anche le truppe francesi, il cui mandato è stato prorogato lunedì dall'Assemblea Nazionale Parigina. I francesi sono autorizzati, stando alla risoluzione dell'ONU, anche a intervenire a difesa dei caschi blu in caso di minaccia grave e imminente. Il contingente di caschi blu costerà 800 milioni di dollari all'anno ed è il terzo per consistenza dopo quelli inviati in Congo e nel Darfur.